Oggi è iniziato il nuovo anno scolastico. I ragazzi e i bambini intraprendono questo loro impegno annuale e spero che sia un impegno proficuo per tutti, per loro, per le famiglie. La scuola è fondamentale nel nostro ordinamento. Crea la classe dirigente del futuro, mette in condizione chi la frequenta di avere delle chance di imparare ad esprimersi compiutamente ed essere cittadini del futuro. Quindi io da questo punto di vista sono felice che l'anno sia iniziata ed auguro ai bambini e ai ragazzi un proficuo anno scolastico, fatto di studi, di attenzione ma anche di divertimento in quanto serve.